5 Stelle fa sul serio dopo Campobasso dove il movimento di Grillo arrivò a sfiorare il successo ora ci vuole provare anche a Isernia e Boiano i centri più importanti dove si voterà a giugno non ce l'ha fatta invece ad Agnone dove nonostante la presenza di Andrea Greco i 5 Stelle non avranno la loro lista A Boiano ci si è riusciti, a Isernia ci si è riusciti negli altri comuni, Agnone ma anche altri, dove ci abbiamo provato e veramente ci abbiamo provato il punto non è quello che arriva dall'alto come certificazione o che ci si immagina che sia qualcuno a decidere se si fa una lista o meno ma è dal basso, devono essere i cittadini che si mettono insieme e decidono di fare questo percorso Isernia ha avuto questa maturità, Boiano ha avuto questa maturità altri comuni la avranno sicuramente e oggi dobbiamo concentrarti su Isernia e su Boiano domani per i prossimi eventi Oggi la presentazione del candidato di Isernia, Mino Bottiglieri leader storico dei grillini di Isernia che ha voluto il via libera come candidato sindaco dai piani alti del movimento pentastellato Avevamo bisogno di avere una certificazione ufficiale che provenisse dal staff nazionale del Movimento 5 Stelle il quale dopo un'attenta analisi di tutti i certificati penali e i casellari giudiziari di ogni singolo candidato determina la certificazione e quindi da oggi possiamo parlare a nome del Movimento 5 Stelle Bottiglieri, come sei arrivati alla scelta del sindaco? Si sono fatti tanti nomi, tante indiscrezioni poi alla fine è venuto fuori il suo nome Ecco, come ci siete arrivati? A novembre noi siamo partiti al centro storico con la nostra sede fisica dopo che su pressione dei cittadini giustamente che avevano solamente il blog e il web come riferimento quindi abbiamo aperto questa sede abbiamo dato la possibilità a tutti di partecipare abbiamo raccolto la maggior partecipazione possibile e ciò ha scaturito un incremento del numero degli attivi comunali di Sernia per cui l'assemblea degli attivi determinata da questa politica di espansione ha portato alla scelta corale, democratica del candidato sindaco che sono io Lista composta da quante persone e divisione tra i sessi? Siamo in 27 così come vuole la legge sulla rappresentanza di genere siamo rappresentati da nove donne e 18 uomini Scelti come? Scelti con lo stesso metodo del candidato sindaco ognuno di noi che ha avuto la sensibilità di candidarsi ha proposto la propria candidatura è stata vagliata dall'assemblea degli attivi che ha ritenuto valida ogni singola posizione Ma per i Sernia ancora c'è tanto da fare infatti durante la presentazione di Mino Bottiglieri è stato ricordato come sia essenziale darsi da fare per raccogliere le firme per arrivare a giocarsi la partita non serviva solo l'ok di Beppe Grillo infatti servono anche 250 firme e manca solo una settimana